Due importanti riconoscimenti per l'Abruzzo in campo turistico, due importanti manifestazioni di Rimini e poi un'altra che si è tenuta in Sardegna nei giorni scorsi. L'Abruzzo piace, l'assessore piace anche tanto. Beh, diciamo proprio di sì. È la vittoria degli albergatori, dei ristoratori, di tutti coloro che comunque gravitano attorno al turismo. Quindi la regione Abruzzo è risultata premiata al TTG di Rimini con il primo premio come regione più accogliente d'Italia. Credo che questo è un premio che abbiano vinto tutti coloro che vivono l'Abruzzo, che sono l'Abruzzo e quindi devo avere un applauso veramente a tutti quanti quelli che hanno permesso a me, perché poi ho rappresentato io loro, quindi l'emozione in quel momento di vedere la scritta Abruzzo come la regione più accogliente d'Italia, di ricevere quel premio che oggi voglio condividere con gli attori principali che sono tutti coloro che comunque vivono la nostra regione, vivono l'Abruzzo, lavorano nell'Abruzzo, creano ricchezza, creano PIL in Abruzzo perché in realtà è questo. Il turismo è un'industria, il turismo crea PIL nella nostra regione e quindi coloro che ci lavorano, che si sacrificano, che si alzano la mattina all'alba magari per far stare bene il turista hanno vinto questo premio come regione più accogliente d'Italia. E poi Food & Travel ci ha premiato sotto il profilo, siamo arrivati terzi dopo il Piemonte e la Puglia, quindi due regioni molto prestigiose per il turismo, uno più montano e artistico, l'altro più marittimo. Sicuramente è un premio da Food & Travel, un magazine che si interessa di food e quindi l'Abruzzo anche qui ha dimostrato di essere al top, è al top tra le prime tre regioni d'Italia.